Mailboxis a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. Il cibo sintetico, idea concepita per far fronte artificialmente a eventuali carenze di materia prima in natura e c'è chi dice no. Sono la Col di Retti e con lei anche la regione Campania. Il Consiglio regionale ha infatti approvato ieri sera all'unanimità un ordine del giorno a firma del suo presidente Gennaro Oliviero e di altri consiglieri per il sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico finalizzato a impegnare il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca a favore della petizione della Col di Retti contro il cibo dal laboratorio. Il provvedimento dell'organo legislativo della regione rafforza la proposta di legge ed iniziativa popolare che Col di Retti porterà in Parlamento su cui a livello nazionale sono state già raccolte 200.000 firme, 15.000 delle quali solo in Campania. Il sostegno nella conferenza Stato-Regione, spiega Col di Retti Campania, servirà a rafforzare l'argine contro la produzione e la commercializzazione in Italia di cibo realizzato con processi biochimici industriali. Al presidente Oliviero e a tutti i consiglieri regionali della Campania, affermano Gennaro Masiello e Salvatore Loffreda, rispettivamente presidente e direttore della Col di Retti Campania, va il nostro ringraziamento. La Campania ha espresso ben due patrimoni UNESCO legati al cibo, la dieta mediterranea e l'arte dei pizzaioli napoletani. La storia di questo territorio non poteva che dire no al cibo sintetico. La decisione del Consiglio regionale della Campania conferma la forte opposizione degli italiani ai cibi artificiali evidenziata dalla Censis, secondo cui si tratta di una realtà che viene nettamente rifiutata dall'84% degli italiani che si dichiara contrario all'idea di cibi prodotti in laboratorio da sostituire a quelli coltivati in agricoltura.